Hanno riguardato anche il territorio di Caltanissette e le zone limitrofe i controlli a tappeto dei carabinieri del Nassi in depositi e stabilimenti di produzione e lavorazione di grano e in quelli di mangimi per animali. I militari dell'arma hanno infatti eseguito dei controlli da cui sono emerse presunte irregolarità in un ingrosso di cereali di Villalba e in uno stabilimento di produzione sempre di cereali a Petralia Sottana. I responsabili delle due strutture sono anche stati multati per una cifra complessiva di 9.000 euro perché sono risultate mancanti le registrazioni sanitarie. Successivamente è stata disposta la sospensione dell'attività dello stabilimento di Petralia Sottana in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Palermo perché dai successivi accertamenti sui documenti sono risultate mancanti anche le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della stessa attività. I Nassa hanno anche eseguito altri controlli e sequestrato grano e mangime in altri stabilimenti di Vicari, Castronovo di Sicilia e Gangi, tutti comuni in provincia di Palermo. Le Asp di Caltanissette e Palermo hanno anche prelevato dei campioni di grano per verificare l'eventuale presenza di aflatossine e pesticidi.